Il cuoier del teatro sociale di Como che è sempre preso e pullula di gente con operai al lavoro, ma ecco attenzione qui dietro quello che adesso vedete è l'ingresso del teatro sociale, un po' al buio ovviamente, nei prossimi giorni ci sarà un'autentica magia. La magia è questa qui, il bosco incantato che troverà la sua concretizzazione qui alla sociale. Giovanni Berera, direttore del museo del cavallo giocattolo, ci spiega che cosa sta accadendo, o meglio, che cosa accadrà Giovanni nel fine settimana. Beh, accadrà una cosa fantastica, una cosa che sarà capace di meravigliare i bambini e le loro famiglie. Cerchiamo, cercheremo di trasformare il teatro sociale in un bosco incantato, ci sarà una grande installazione, ci sarà una platea che... Praticamente Giovanni, quella che adesso noi vediamo, che è appunto la platea del teatro sociale, verrà smontata. La platea toglierà il bosco incantato, ci sarà più di 200 alberi, silhouette di cartone, che saranno appunto dalla cornice speciale del bosco incantato, dove come dei piccoli tesori verranno installati 24 giocattoli della collezione Lehmann, che è una collezione che è custodita al museo del cavallo giocattolo a grandate, di giocattoli di ratta serigrafata, prodotti verso la fine dell'Ottocento. Quindi sarà un'installazione magica sotto due punti di vista. Uno perché sarà davvero un bosco innevato, due perché nel bosco innevato si scopriranno alcuni giocattoli antichi e un'ultima nota davvero speciale, dentro il bosco incantato ci sarà un atto eroico da compiere. Quindi i bambini dovranno esplorare il bosco per liberare un cavallo dorato. Bello, bella questa cosa. Tanto scusami se, ecco qui vediamo che tu nella locandina ufficiale c'è sette giorni, perché in effetti è dal 20 al 27 di dicembre, come potete vedere. Giovanni, sette giorni di teatro, musica, laboratori, racconti e danza. Poi qui c'è tutto il programma che inizia domenica, lo ricordiamo, inizia domenica con l'inaugurazione. Quindi veramente una magia. Nel clou del Natale avete cercato di creare questa autentica magia. A 360 gradi, sfruttando o meglio valorizzando tutti i linguaggi che il teatro utilizza. Quindi davvero ci saranno degli spettacoli di musica, degli spettacoli di balletto, degli spettacoli, ci sarà il coro delle voci bianche del sociale. Inaugureremo il 20 con uno spettacolo molto molto suggestivo dei liberi di, ma in 20 quasi ad accogliere e introdurre l'inaugurazione ci sarà un performance itinerante che da Piazza Grimolti attraverserà il centro e si concluderà alle porte del teatro sociale che verranno aperte e finalmente si potrà visitare il teatro sociale. Oltre agli spettacoli abbiamo anche i laboratori. Ogni giorno un laboratorio diverso. L'ingresso libero? Tutto è ingresso libero. E questo è molto importante. I spettacoli, mi raccomando, sono su prenotazione, quindi bisogna passare in biletteria al sociale per tirare i biglietti, mentre invece per i laboratori, le visite guidate e tutti gli altri eventi collaterali ci si può presentare qua e ci si può liberamente iscrivere. Un'ultima cosa Giovanni, visto che adesso qui ci sono gli operai che stanno allestendo per lo spettacolo di questa sera, però quando il bosco concretamente verrà installato, perché poi ci sono anche le attività del sociale, quindi dovete fare proprio un po' una corsa contro il tempo, giusto? Il bosco crescerà, anzi sarà seminato, crescerà in 12 ore di allestimento. Nella notte di sabato. Nella notte di sabato, da mezzanotte di domenica, anzi di domenica 20, a mezzogiorno di domenica 20, il bosco prenderà vita e si costruirà. Al 17 sarà tutto pronto e vi aspettiamo. Grazie Giovanni e buon lavoro. Grazie a voi.